A noi e ai cittadini non interessa affatto se le strutture di ristoro, bar o altro non funzionano e non sono state ancora collaudate o non sono state affidate a chi li gestirà. Aprite per favore il parco. Sono ancora una volta i residenti a chiedere all'amministrazione comunale risposte sul parco di via Giovanni Acuto. Gli abitanti del quartiere di Pescaiola attendono infatti la riapertura da quattro anni. Chiediamo all'amministrazione che venga finalmente ridato quest'area verde all'uso pubblico ai cittadini perché quest'area che prima era a disposizione dei cittadini da quattro anni è chiusa perché ci hanno voluto fare un'operazione anche di investimenti per strutture di ristoro o altro, campi di calcetto, campi dei tennis, quello che vogliono, ma i cittadini sono stati privati della loro area verde che potevano benissimo godere. Bastava averci speso 20.000 euro per fare più impianti di piante, avevano bisogno di un po' di panchine, di qualche gioco in più per i bambini e loro prima ci venivano, adesso da quattro anni non ne possono più utilizzare. Quindi noi vorremmo che ci dicano finalmente quando viene aperto questo parco. Grazie.